Ginecologo a tempo indeterminato. Dopo lo stralcio a piano dei fabbisogni rilasciato dalla regione Abruzzo, arriva l'assunzione per il medico Gianluca Di Luigi, che resta sul Mona. Erano pronte già le valigie per il trasferimento nell'ospedale di Vasto, dove doveva prendere servizio e 16 aprile doveva aver vinto il concorso bandilo dall'asla di Chieti. Su richiesta della locale azienda sanitaria, la regione ha dato il via libera alle assunzioni a stralcio per stabilizzare il ginecologo nella pianta organica del reparto, ma l'ultimo passaggio decisivo c'è stato proprio oggi. L'asla di Chieti e quella di Avezzano su Mona l'Aquila hanno infatti stipulato la convenzione per permettere l'assunzione a tempo indeterminato del ginecologo nell'ospedale di Sul Mona. Attendo questo momento dal 1992, ha scritto Di Luigi su Facebook, tanti cambiamenti sono intercorsi nella mia vita da allora, ma ho potuto comunque sentire forte l'abbraccio di chi non c'è più su questa terra, ma vive costantemente nel mio cuore, grazie a coloro, davvero tanti che mi hanno supportato in questi mesi è per me un onore continuare ad essere a tempo indeterminato uno dei ginecologi del presidio ospedaliero di Sul Mona. E' un piccolo segnale, ma concreto, che arriva per il punto nascita, il cui futuro deve ancora essere scritto in bella copia dopo il mantenimento provvisorio e le proroghe accordate negli ultimi anni. Una rondire non fa primavera, ma il trasferimento di Di Luigi sarebbe stato l'ennesimo colpo all'ospedale di Sul Mona, che resta in emergenza soprattutto per la carenza di personale. Da reumatologia a oncologia, passando per neurologia, la mappa dei disagi è ormai conosciuta. Servono interventi concreti, come avvenuto per il ginecologo del punto nascita.